Per tutto il Medioevo, all'alga bruna, Fucus Vesiculosus, le si attribuivano poteri quasi magici, sia contro il gozzo, sia contro il ritardo mentale dei bambini. La raccolta delle alghe doveva però avvenire in periodi di luna crescente e da parte di chi le avrebbe poi preparate come medicamento. Era un vero medicamento? Il valore del medicamento sta nella fede di chi lo riceve e, attenzione, anche di chi lo prepara. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.